Oh ma lo sai che stavolta ci hai preso? Figa, ci hai preso, cazzo, sia la formazione iniziale e poi dopo ti sei, giustamente hai tirato giù Beggi, che ci hai messo Arnani, bravo, bravo, anche, anche Charpentier, no, no, va bene, figa, stavolta, guarda, hai lavorato bene. Ragazzi, allora, veramente sintetico, il Parma è andato a vincere, è andato a vincere anche con il Sud Tirol in casa e quindi siamo prima in classifica con 29 punti e il Venezia ce n'ha 24, la terza ce n'ha 22, quindi ottimo Parma, allora il Sud Tirol è venuto a Parma per mettere il bus davanti alla porta e questo probabilmente si sapeva, però quello che non si sapeva è che il Sud Tirol, almeno lato mio, giocasse così male, cioè nel senso l'anno scorso era un'altra squadra, cioè questo qua è mezza classifica perché sa difendersi a malapena perché con un attacco vero, come quello del Parma, ha beccato due gol comunque e poteva prendere anche di più, però diciamo che per la Serie B si sa difendere bene, in attacco c'è un buon Casiraghi sicuramente, insomma è da mezza classifica o giù di lì, un po' di più forse però, però il Tardini è venuto per stare lì in difesa e è finita lì e sperare di non beccare il gol che poi invece ha preso, quindi diciamo il nostro caro armato d'attacco ha sfondato il bus, l'ha ridotto in fiamme, in cenere e è finita lì. Questo ragazzo qua, io, ragazzi io ve lo dico, cioè quel ragazzo qua adesso c'ha anche una tecnica sopraffina, eh? C'ha una tecnica sopraffina, è fondamentale, questo faccione qua, guardate com'è bello grosso, questo qua, questo qua è veramente forte, è veramente forte, oddio quest'anno di giocatori forti ce ne abbiamo tanti e quel ragazzo qui è un altro giocatore, questo qua è diventato Messi, questo è diventato Messi, quell'altro lì è diventato, è diventato Lukaku che devo dire, il resto della squadra, alcuni stanno facendo delle cose impossibili per quello che vedevamo prima, quindi un gol di Bonny, un gol di Bonny, pazzesco, partito da metà campo praticamente, ha tirato dritto, poi ha fatto finta di darla a Ciolac, tutti pensavano che la desse Ciolac, invece col cavolo, ha tirato una staffilata terrificante, un rigore in movimento con una botta terribile e ha fatto gol. Per quanto riguarda Dennis Mann, Dennis Mann segna su rigore, ok, però in realtà Dennis Mann c'ha deliziati, cioè c'ha deliziati con delle giocate bellissime, cioè giocatore di un'altra categoria, quest'anno sembra un giocatore ottimo, ma un giocatore ottimo per la Champions League, non per la Serie B. Boh, non lo so, veramente una cosa eccezionale, perché abbiamo un Dennis Mann così, un Somme che entra e comunque gioca bene, ormai chi finisce in pacchina quasi quasi c'è sempre da piangere, perché un tempo pensavo che Ernani era giusto, Bradipo Ernani, adesso va chi lo chiama più Bradipo? Ragazzi, adesso è un Ernani ringiovanito di cinque anni questo qua, cioè questo qua tecnicamente non si discute, ma viaggia anche bene come velocità adesso, supera gli avversari, si fa fare fallo, utilissimo. Bonni, va bene, non ho parole, perché Bonni ormai tiene il pallone con un controllo che sembra un giocatore di Champions, scusate ma qua mi squilla anche il campanello, quindi complimenti alla squadra, complimenti a Charpentier, complimenti a Charpentier perché adesso, ripeto, riesce anche lui tenere il pallone, cioè non ne teneva a mezzo quelle poche occasioni che avevo visto, in cui l'avevo visto in campo, il fantasma Charpentier, quindi adesso è utile anche lui, adesso sono utili tutti, non so che dire, Coulibaly si è fatto un riposino, l'ha tenuto giù, ha fatto anche bene, Miaila per fortuna proprio non c'è, non è stato fatto entrare, forse è infortunato, non lo so, Osorio, Osorio per fortuna era infortunato, qui non l'abbiamo visto, sennò quel salvataggio bellissimo che ha fatto Balog, era gol netto, ma netto al 100%, cioè se c'era Osorio su quel pallone, col cazzo che salvavi quella palla lì, quella lì era il 2-1 secco, era 2-1 e da lì nasceva anche il 2-2, cioè rischiavi anche il 2-2, quindi ringraziamo che non c'era Osorio, per cui siamo riusciti a tenere e non prendere quel gol lì, quindi grazie Balog, che fortunatamente non sei Osorio, Osorio è l'oratorio e se a giocare ci va all'oratorio, non con il Parma che ci fa solo che è un piacere a star giù, e niente, quindi cos'altro dire, Cicci Zola praticamente ha giocato da difensore e praticamente, a parte un pallone che a momenti regala l'attaccante come al solito, perché fuori di Cicci Schiara a giocare in difesa, prima o poi la perdi, però per il resto, ripeto, avrà passato 10 minuti a perdere del tempo, a me sinceramente quel modo lì di giocare non mi piace, probabilmente è in posto, è in posto perché non credo che lui lo faccia di suo, perda del tempo in quella maniera lì, perché quello è veramente perdere tempo, e a me non piace, è un portiere che sta lì con la parte tra i piedi 30 secondi e lo ripete 10 volte per ogni partita, quindi vabbè, a parte questo appunto in cui ti dico, Pecchia, quella roba lì possiamo anche evitarcela, eh, cioè sarebbe da tirare via proprio negli schemi e basta, perché è una gran cassella, vabbè, è una perdita di tempo inutile anche per noi alla fine, quindi ciao, comunque vabbè, hai vinto e non ti si può dire niente oggi perché comunque hai zecato anche i cambi e tutto, ciao, quindi niente, ragazzi io vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto, questa partita non è stato, allora il primo tempo non è stato uno spettacolo grandioso, ma comunque come sempre passiamo in vantaggio, il secondo tempo dopo aver fatto il 2-0 il Parma era bellissimo, cioè c'è poco da fare, cioè uno spettacolo, cioè non c'era un giocatore che non desse spettacolo, Bernabé dava spettacolo e Arnai dava spettacolo, Mann sembrava Messi, non lo so, e facevano dei numeri uno dietro l'altro, addirittura hanno provato un'azione anche tacco e tacco per dai e vai con un ritorno di tacco, cioè le robe, adesso hanno esagerato in certi momenti, però veramente, siamo primi, continuiamo così, continuiamo così perché è la strada giusta, mi raccomando, cerchiamo, come dire, di giocare sciolti, cioè non possiamo fare come sul 1-0 che siamo tesi, non facciamo il 2-0 e giochiamo un po' così, bisogna giocare, 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 giocare per segnare, giocare per vincere, giocare senza paura, perché una squadra del genere con quell'attacco che c'è non deve dar paura, la difesa fa cacare un po', perché meno male che c'è, in senso, io dico difensore centrale perché purtroppo abbiamo Osorio che gioca quasi sempre, questa volta invece no, infatti si è visto, abbiamo preso zero gol, guarda caso, ecco, però a parte quel problema Osorio che ce lo ritroviamo quando gioca e che qui la difesa diventa una merda e se non ci fosse Cercati praticamente saremmo fottuti tutte le partite, per il resto dobbiamo sempre sperare che non ci sia Osorio e niente, io darei spazio punto a balla, ovvero sicuramente in coppie con Cercati vanno benissimo, gli altri vanno tutti bene, a saldi, quelli che vanno bene tutti, dai, e in attacco siamo bravi, c'è niente da fare, in attacco, ormai del centrocampo in attacco si conoscono, come dire, con gli occhi chiusi così, quindi basta. Un saluto dal Mago alla prossima occasione e Forza Parma e che la magia sia con voi, ciao!